BALENO BALENO Tu BALENO Solo BALENO BALENO Tu? SOLIDADO SOLIDADO non è un gioco eh Tu stai qui con me C'è solo la guerra Sono pronta per la guerra Ma tu che cosa vuoi? C'è cosa ti interessa? La rivoluzione non è un gioco ELLO Il primo re di Matteo Rovere è stato girato interamente con luci naturali e recitato in protolatino e il regista ha usato pochissimi effetti speciali preferendo il trucco e protesi e il lavoro praticamente solo degli istante. L'avete visto? Ah io ve lo consiglio veramente caldamente. È davvero bello. Ragazzi vi piace la mia maglietta? Mi vado molto orgogliosa. Se volete comprarla in info box trovate il link e io vi aspetto al prossimo video. A presto. A presto. A presto. A presto.